Ciao a tutti, io sono William e ringrazio Mario per l'invito e dole via le domande. Bene William, come prima domanda direi di spiegare un po' come nasce questo può accompagnare solo. Il può accompagnare solo nasce in una frase con una sintassi totalmente sbagliata. Invece abbiamo visto che questa tua frase appare in un video dove sei su una moto e poi cadi. Come nasce questa tua passione per le moto? La mia passione per le moto nasce da quando ho avuto il mio primo mezzo di trasporto che è stato all'età di 14 anni. Mi ero comprato una Vespa 50 che avevo pagato 55.000 lire. Ancora adesso me la ricordo. E da lì poi la passione per le moto da strada e poi totalmente sui custom. Bene, oggi vediamo William come un uomo palestrato, un uomo muscoloso. Ma com'era William da bambino? Allora, come ero da bambino? Da bambino ero molto ma molto vivace e poi ero anche piccolo perché una volta io ero piccolo anche. Poi crescendo ho intrapreso la palestra cercando di modificare il mio aspetto fisico che non era dei migliori. Fatti conto che a 22 anni ero alto 1,85 e pesavo 72 kg. Quindi ero molto ma molto magro. Tanto che mi portarono dal dottore e il dottore mi consigliò a lui di fare palestra. Poi io non avendo mezze misure sto continuando ancora adesso a seguire il consiglio del dottore. Qual è invece un tuo sogno che vorresti si realizzasse? Il mio sogno è essere felice e non avere padroni. E essere completamente indipendenti da tutto e da tutti. Come sai, in ogni nostra intervista chiediamo qualcosa di tecnologico agli intervistati. Qual è la tua opinione sui social? Allora, il mio parere sui social. Guarda, in parte è buono e in parte no. Perché poi alla fine molti ragazzi hanno una dipendenza verso questi social network. Per esempio, io a mio figlio gli permetterei di farlo, ma ne ho un'età che ritengo giusta. E gli darei dei limiti, altrimenti diventerebbe dipendente anche lui. Ritornando al Può accompagnare solo, ti va di spiegarci e raccontarci un po' di più questa storia? Allora, vi racconto un po' brevemente la mia storia. Praticamente nel 2013 mi trovavo a un raduno a Lugano di Harley Davidson. E durante questo raduno si avvicinò Tele Ticino per dirmi se potevamo fare un'intervista per attirare un pochettino il pubblico femminile. Quindi abbiamo impostato un po' questa intervista e la prima volta lo feci sbagliato dicendo questa frase con una sintassi completamente sbagliata. E quindi venne messo da parte e ne rifecero un altro che tra l'altro poi è venuto anche bene. E tra l'altro poi era andato anche indifferita. Dopodiché lì domani ho subito un guasto alla moto, la pompa posteriore quindi non ho avuto la possibilità di frenare anche col freno dietro ho dovuto pinzare e quindi la moto mi è scivolata nella parte anteriore cadendo. Dopodiché Tele Ticino ha fatto il montaggio con la caduta insieme alla frase con la sintassi sbagliata che avevo fatto all'inizio e quindi è nato questo tormentone. Bene William, ora cambiamo totalmente discorso e passiamo alle tue preferenze. Quali sono i tuoi cantanti oppure il tuo cantante preferito? Allora posso dire che il mio cantante preferito che mi ha accompagnato in tutta la gioventù è stato Vasco Rossi quindi come cantanti italiani Vasco Rossi poi come stranieri gli SDC senza dubbio. Parlando proprio di musica e cantanti ti va un po' di parlarci della canzone E' tutto un trash che ti vede come protagonista? Allora l'idea della canzone E' tutto un trash E' nata da Nicola Fasano e Carmin Schiff e i Miami Rock X Poi visto che c'era ritornello può accompagnare solo mi sono inserito anche io e abbiamo completato il tutto con un bel video e che dire con una tracciata del genere puoi accompagnare solo abbiamo raggiunto un milione e cento e possiamo dire che siamo soddisfatti e andiamo avanti Ritornando nuovamente alle tue preferenze come ultima domanda vorrei chiederti un po' se ci sono delle squadre preferite oppure un calciatore preferito? Devo dire che a me il calcio non interessa molto quindi non sono tifoso e non tengo per nessuna squadra guarda tengo per il pass Bene come detto già in precedenza questa era la mia ultima domanda e innanzitutto per terminare questa intervista vorrei nuovamente ringraziarti per aver accettato il mio invito grazie William Grazie a voi e ringrazio nuovamente Mario per l'invito e mando un saluto a tutti gli ascoltatori perché una radio come Radio Android può accompagnare solo Grazie a tutti